buongiorno ragazzi zoom zoom benvenuti in questo nuovo vlog allora ho una faccia terribile raga sono le 4 20 di questo sabato sabato 5 aprile si è sabato 5 o 6 oddio adesso mi vengono i dubbi come sempre comunque è sabato questo ne sono sicuro sono le 4 20 appunto ho finito di fare colazione adesso giornata lunga oggi però bella sicuramente lavoreremo fino a luna poi ti torno a casa di corsa a prepararsi e poi si va via vado a Norimberga lo sapete la festa il tempo lo mette un tempo stupendo caldissimo staremo insieme adesso io mi devo riprendere raga perché ho un sonno pazzesco stamattina anche se alle 10 ieri dormivo la mia dormita l'ho fatta però è dura è l'ultimo giorno della settimana quindi paulino svegliati ci sentiamo tra pochissimo intanto 5 meno 20 raga mi sono alzato adesso dal timano stavo guardando tra l'altro analisa superstar che era una vita che non guardavo prima a parte che faceva molti più contenuti faceva tante cose adesso si fa video ma un poco meno comunque mi è tornata sulla home e me lo guardate sempre molto molto simpatica analisa del palermo anche lei come katia e luigi e come tanti altri youtuber che stupenda città allora si dicevo sono le 5 meno 20 io adesso mi preparo la borraccia dell'acqua lo zaino mi stavo guardando raga i pullman per andare a norimberga cioè per andare in stazione poi a norimberga da quando torno a casa ho giusto giusto mezz'ora poco poco più per prepararmi che potevo ripartire ma va bene una roba pronta una butto in doccia velocemente vediamo magari mi lavo solo così non è che devo fare la doccia vediamo vediamo e poi partono comunque tra una cosa e l'altra arrivo alle 5 meno un quarto a norimberga si 5 meno un quarto tra una cosa e l'altra ci sono 12 gradi adesso fuori raga quindi già si nella mattina si comincia a stare bene oddio va freschino ovviamente però vi ricordate già pochi giorni fa ce ne erano 4 è così sì pensando niente ah sì ecco cosa devo fare vedete mi cervelletto devo prendere lo zaino intanto e devo caricare la batteria portatile per il cellulare perché oggi farò i video comunque mi preparerò anche la borsa dicevo la borsa che userò per tutta l'estate sono in camera da letto oddio la roba da stirare questa 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 me la devo preparare ci metto le cosine giusto adesso il tempo di fare la doccia metto qua bene stamattina sono entrato in cucina e ho visto tutto questo tutto l'ordine che ho fatto ieri tu ci vediamo prossimamente in cucina e devo anche prendere il libro di benedetta che grazie a chiaretta avevo comprato con le ricettine della friggitrice d'aria e finalmente questa cosa mi spingerà ad usarlo eccola qua eccolo qua il libro aspettate che andiamo un attimo alla luce questo qua il libro fatto in casa da benedetta in cucina con la friggitrice d'aria oltre 200 ricette facilissime questo qua vediamo che cosa mi ispira allora gnocchi pasticciati riso al latte no riso al latte l'odio scusatemi proprio questo tanta pasta tanta pasta grattinata rigatoni ricotte melanzane a grattere c'è una melanzana conchiglioni ripieni ma qua sono tutti i primi lasagne le verdure alici spanate magari averle ecco polpettine di tonno che queste le avevo viste da da come si chiama da francesca le polpettine di tonno polpettine di carne ma quanta roba va bene già quest'ora se parla del magnà raga alle 5 del mattino fatemi andare che vado come se voi mi state intrattenendo mi state trattenendo noi intrattenendo trattenendo allora lo metto qua così non ho la scusa che vado perché è tardi ci sentiamo dopo prontissimo raga tra le 5 e 07 escro 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 tra otto minuti allora ogni tanto sotto i miei commenti si discute della doccia doccia al mattino doccia alla sera doccia tutti i giorni doccia di qua doccia di là io vi dico sempre che io la mattina 365 giorni all'anno escludendo i giorni che sono malato e i giorni che proprio sto a casa che so che non devo uscire faccio la doccia ed è stato ovviamente anche la sera eccetera eccetera perché si può sudare e insomma insomma quindi io adesso tutto questo mi è venuto in mente perché ho fatto la doccia e mi sento molto meglio mi dà una carica mi sveglia anche se ci ha messo tantissimo l'acqua calda a venire giù oggi è rimasta poi si calda più tiepida diciamo tutta aperta verso il lato dell'acqua calda ho avuto paura che ci fosse qualche problema tipo la caldaia giù non mi sarei potuto fare la doccia ho fatto la doccia o fare la doccia gelata odio 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 quindi tutto a posto diventata poi calda ci ha messo un po neanche a gennaio ma non lo so comunque funziona e quindi sono tutto bello perfumato allora si vado questa lavora oggi sabato sabato mattina c'è sempre un bel movimento vedremo ma meglio così passa veloce raga passerà velocemente la giornata e poi vi ho detto cosa succederà quando torno a casa mezz'ora per prepararmi e si riesce sto andando qui da una parte all'altra ho aperto tutto così quando uscirà il sole entrerà a casa mia io vado vi mando un bacio ci sentiamo alla mia uscita dal lavoro e poi andremo insieme a nuriberga mi raccomando venite con me mentre gli uccellini cantano io vado a lavorare mentre tutti dormono c'è proprio l'aria tiepida raga già quest'ora io però per la mia età ho messo comunque il cappellino in testa perché si sa mai però sta davvero bene che luce questo garage quando esco a luna oggi mi aspetto il botto tipo ieri di spalto di temperatura perché il negozio c'è freddissimo già ieri uscendo 19 gradi ho sentito la botta di calore oggi che ne uscirò con 24 piacevole però pulma dovrebbe essere puntuale mi sto svegliando piano piano anche oggi comunque la sveglia mi vantavo tanto che mi svegliavo prima che suonasse invece in questi ultimi giorni se non suonava addio avrei dormito vediamo domani mattina se mi sveglio da solo le 4 o se riesco a dormire un po sempre così e quando non lavori ti svegli presto ma diciamo che un po la fortuna mi mi rigiro io insomma e mi ri addormento ciao raga ci sentiamo dopo non c'è nessuno raga di solito c'è gente che aspetta l'autobus si qualche macchina in più adesso vedete ne passano comunque si vede che sabato anche se tanta gente lavora sabato addirittura domenica però si vede che c'è meno movimento delle altre mattine mi sento solo io solo vado a lavorare non è vero quanti tutti lavorano cioè tutti tantissimi lavorano sabato ok aspettiamo l'autobus dovrebbe passare esattamente tra otto minuti speriamo perché sabato passa invece dalle 5.26 alle 5.29 per tre minuti in più che cambiano poco però in realtà quando entri poi giusto giusto al lavoro tre minuti sono tanti ecco di solito sei meno 10 sono al lavoro ci metto poco a cambiarmi a salire su a cambiarmi insomma quindi diciamo che in quei pochi minuti tre quattro sono solo tanti diciamo così dai speriamo arrivi presto a dopo ragazzi inizia il mio weekend allora se ieri ho resistito 5 minuti con il giubbotto ho 10 minuti quelli che erano oggi appena sono uscito ho fatto ho fatto un respiro ho detto no subito t-shirt mamma mia il sole è caldissimo qui hanno abbandonato uno scooter o come si chiamano che calur vediamo se il pulmo arriva alle 13.20 dove sei sabato si 13.20 e qua raga abbandoniamo il giubbotto allora adesso devo sentire il mio amico se prendo un treno alle 15.45 o giusto giusto 40 minuti un poco meno per prepararmi e riuscire se no chiudi un'ora vediamo un po' adesso le do un colpo di chiamata come sono felice oggi c'era un bel po di lavoro però è passata super veloce la giornata bene noi ci sentiamo dopo con gli aggiornamenti allora ciao ragazzi ragazze top sono le 2-10 quindi ho 40 minuti quindi con tutta la calma mi bevo il caffè mi cambio mi do una sciacquata è arrivato un po' prima il pulmo meno male quindi mi preparo la borsetta e noi poi ci sentiamo dopo confermo il caldo però un caldo accettabile insomma un caldo primaverile molto bello vi mando un bacio per il momento vado se no veramente non riesco a uscire e un'altra cosa metto a caricare il cellulare in questi 40 minuti così sono al 60% però per sicurezza e nulla quindi vi mando un bacio e ci sentiamo dopo raga ci sentiamo fuori fuori casa insomma vado a prepararmi eccomi raga sono le 2-30 sto uscendo sono pronto ma che strano uscire se sta giubbotto io voglio mettere le mani in tasca è stranissimo senza cappuccio solo con la borsetta eccomi qua non così la mia borsettina vedete si ci sono proprio 26 gradi in questo momento qui la gente tutta sui giardini a godersi il sole che bello tra dieci minuti passa l'autobus devo dire che sono stato tranquillo a casa ho bevuto il caffè uzzo mi sono andato una rinfrescata mi sono cambiato ho messo le scarpe comode ho preparato la borsetta con tutte le cosine dentro questa volta anche la batteria portatile per il cellulare piena così non ho problemi fino a stanotte perché credo che torneremo intorno a mezzanotte ed ecco qua siamo pronti per fare questo sabato non ci posso credere non sono neanche tanto stanco ma sapete perché perché è tutta l'energia del sole e poi la felicità di passare una bel pomeriggio una bella serata liberi ok noi ci sentiamo dopo viaggiorno o a Nuremberg oppure vediamo prima di prendere il treno con me è sempre una sorpresa Siamo arrivati ci sono le proteste contro la destra inutile dire che c'è un mondo di gente contro gli animali contro stanno lì in piedi con la tv sopra hai visto? polizzaia vieni portati a te vieni portati a te ahahahah c'è una bella arietta fresca qua vero non c'è caldo c'è caldo ma si sta bene che bella spiegazione c'è caldo ma non c'è caldo non c'è caldo non c'è caldo sticchino senti non c'è caldo sticchi non c'è caldo sticchino 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 chiedi sono delle più fiori c'è caldo più di qua ci sono più fuori fiori che qua che si stringono la mano queste due piante si le hanno collegate apposta guarda questo ristorante che elegante mentre il pigro si è seduto nella panchina io cammino ancora un qui tanto mi raggiunge non sono mai passato qua raga qua ci sono le scale bello proprio c'è un bambino che piange andiamo a recuperare il mio amico ancora seduto là si infatti fantastico questo è vecchissimo tutto il legno questo guarda qua c'è anche il gelato c'è la coda per il gelato seduti sulla macchina a mangiare il gelato bello andiamo si andiamo dov'è questo ascensore grande che bello qua ah il ponte andiamo su questo ponte bellissimo sto posto raga non lo conoscevo in mezzo alla città in mezzo alla città adesso andiamo sul ponte vediamo un po' mi ha detto il mio amico c'è un grande ascensore ma mi intendeva il ponte non capivo dov'è l'ascensore è un ponte è un ponte sarco si chiama si si ce ne so ciao eh poverino ciao non sembra neanche norimberga questo fammi vedere qua che bello questa è tutta la città antica città vecchia che colori quelli di prima sono ah che bel fresco qua sotto che bell'aria ah qua è per saltare per fare i salti da qua di là andiamo dritti qua c'è acqua lì dove eravamo prima no fino a qua no questo palazzone però è un bel posto per abitare dietro un parco comunque alla festa non siamo ancora andati ovviamente raga andiamo fra un pochino quando fa un po' più di buio vediamo cosa c'è non c'è niente sarco no 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 stiamo andando verso la stazione a prendere cosa stai dicendo no la mia risposta è no aspetta che stavo dicendo qualcosa ai miei amici non mi ricordo più ah che stiamo andando a prendere il tram per andare alla festa giusto? sei entusiasta? ah qua c'è DM e quindi andiamo alla festa purtroppo farà luce fino alle otto e mezza quindi noi penso che saremo di ritorno ma è uguale guarda per casa mia per fare oddio luce gente ben presa sarco i fiori i tuoi amati fiori rubane un po' per portare a casa no non si fa qua c'è un po' di gente che magna che beve insomma tu fare questo cavallo io oggi non do per te lo so eh ma bisogna comprare la carne però no 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 solo e poi l'altro non ho capito cosa hanno detto Mickey Mouse tu hai Bart Simpson e loro hanno Mickey Mouse adesso io devo andare in bagno vediamo sotto sotto c'è il bagno devo fare pipì sì c'è 50 centesimi penso che costa aspettiamo la metro raga ma ne abbiamo persa una ma in sei minuti ne arriva un'altra e poi dobbiamo cambiare e poi c'è non ti inquadro non aver paura raga i pulmi sono tutti strapieni caput se il prossimo arriva è così stiamo aspettando da un'ora tutti quelli che passano sono schiacciati dentro però a piedi è impossibile andare giusto giusto non ci andiamo alla festa adesso arriva un altro pulmo ma tutti questi devono salire quindi vediamo un po' aspettiamo il prossimo quanti minuti? perché tu qua eh boh dovrebbe arrivare arriva? no ma non è questo 45 siamo in punta al pulmo ma ce l'abbiamo fatta aiuto ce l'abbiamo fatta prendere siamo proprio qua schiacciati sulla porta siete in prima fila raga dopo un viaggio per il speciale siamo arrivati mamma foto per la scuola oh no io faccio il caffio direttore si ma qua è più lontano che bella la diosta dei flingstons raga sono i bambini qua se magna si quello lì raga che sembra colosseo è il famoso zeppeling un'altra storia che non era una festa potete immaginare quale ci tenivano certi comizi è alta di upitec fanno i polli arrosto guardate quello che è ispirato tipo donkey kong pacman ai giochini tipo nintendo che forte c'è anche il funghetto di mario fake luigi è bello anche poi andare lì ma vi porterò un'altra volta c'è una storia là c'è una storia a me gira solo la testa a guardare questo video con la musica non verrà mai pubblicato comunque è grandina dai non so se è più o meno di reggesburg nove di chi cinema nove di questo sarebbe interessante c'è gelato anche qua c'è gelato anche qua no ha la giraffa c'è la giraffa non ascoltate la musica youtube il brucomela da gardana perché non lo vedevo sono stato qua è l'unica cosa che ho avuto coraggio di fare rimane sempre bello però è l'unica cosa che ho avuto è l'unica cosa che ho avuto è l'unica cosa che ho avuto che roba che roba che roba che roba arrabbiato arrabbiato ah qua c'è l'acqua guarda anche questo l'avevo vista a gardaland puoi andare che scendono dall'acqua wow questo è classico di gardaland quanto hai fatto? eh? per due e quanti sono? questo 10 euro no ho paura scende da là solo sopra si è uno guarda ma è grandissimo raga io direi che 100% adesso ho avuto per festa non lo so che buoni questi i bretzel quanto costa? sì ma sono grandi i bretzel con tutte le cose 6,50 euro al bretzel gigante là la festa finisce quella prossima domenica fra otto giorni dura due settimane in tutto la frutta con cioccolato non manca mai le feste che profumo di salsiccia a te non piace lo so perché non mangi maiale guarda che lunghe aspetta vediamo se no te non dicono niente wow wow ciao che buona cordon blu c'è anche è tutto maiale è tutto maiale sopra e non acqua non c'è acqua no penso si è solo un po' bagnato però oddio quello oggi senza acqua però pesce arrosto fisce fisce adesso puzziamo di pesce arrosto anche qua panini col pesce che buone li facciamo anche noi questi però ma da dove lavoro io calamari bravo le pannocchie questa è la stessa giostra invece che ho visto a reggesburg no lui è vero oh dio continua laggiù ancora un pezzo ma è l'ultimo pezzo di là non poteva mancare la pizza oddio un pochino particolare però sempre pizzare c'è scritto prova a guardare una pizza 9 euro mezza pizza 4 euro e 50 qua c'è un lago oddio ah le montagne russe ma sono piccoline queste sono per bambini c'è un laghetto qua vediamo poi finiamo il giro della festa un parchetto non è che sia ah ci sono i cigni però uno i delfini ci sono i delfini ce n'è solo una le un po' di anatre come senti si può mangiare no è nebbia no ma che nebbia si è nebbia finiamo il giro raga della festa c'è c'è un bel pezzo ancora vediamo raggiù oddio che carini questi pupazzetti ad anguria questi qua raga ce l'avamo bloccati l'emmezzo guarda che figo lo vuoi? che bei capelli dammene un po' ah questo è arancione bello anche anche le tartarughine troppo belle troppo più troppo comunque noi mangiamo fuori dalla festa raga sono le 8 meno sono le 8 meno un quarto ridono? hanno riso? una hai detto che io sono paolo channel sono famoso sono famoso adesso cominciano a vedersi le luci perché sono quasi le 8 e fa buio e vai la lavatrice aiuto ma non finisce più raga ah che bello questo angolino ah stiamo passando dietro ok adesso ho capito adesso sto capendo il giro questo è un gioco classico vuoi giocare? no perché? 1,60 11,6 euro questo è particolare raga palloni sopra l'acqua mi ricordo un gioco della vecchia buona domenica che fame con tutti questi profumi raga Sarko dove sei? ho perso ci sono le patatine qua the pomer stand perché non va su? andiamo andiamo dillo cosa dici sempre dillo non ti vedo basta video ah basta video perché? guarda perché non sente bello bello che grosso uh che grosso mamma mia bellissimo questo che brutto guarda che passano qua qua sarebbe bello andare però ah questo è star wars sono proprio grandi queste giostre volete vedere la polizia originale tetesca? se ti da un pugno questo ti manda sopra le montagne russe è gigante tanto non sta vedendo non rubare la pistola è gigante non facciamoli arrabbiare ce l'abbiamo quasi fatta raga si esce qua siamo verso l'uscita eh quasi finito almeno speriamo che non finisce più qua non ci si passa raga questo sembra un rockefeller ve lo ricordate? o un calimero che ha avuto un incidente oddio arrivederci usciamo dalla festa è stato molto bello ah c'è di nuovo ad agosto se volete venire 23 agosto 8 settembre ciao festa eh? non fai male per tu? si agosto si raga ci sentiamo a casa per i saluti finali bravo che c'è la maglietta dell'italia viva l'italia ciao festa ecco il bus ragazzi siamo a casa 11 e mezza 11 e 20 in realtà tutto a posto il viaggio in treno è andato bene puntualissimo poi abbiamo preso il punto di venire qua che ci ho portato sotto casa praticamente è stata una bellissima giornata spero che le immagini vi abbiano fatto piacere so che non rendono mai le immagini come la realtà come vivere i posti però ho cercato di farvi vedere il più possibile soprattutto una sorpresa per me perché in quella strada con quelle belle case e poi scocciata nel parco io non c'ero mai stato pensate quante volte ci sono andato e quella strada non l'ho mai vista invece lui la conosceva e sono stato contentissimo la festa mi aspettavo che fosse grande ma non così piena di gente sì perché con il tempo che c'era poi sabato era bellissimo non ho girato tanto alla festa insomma sì ho girato tanto però ce la siamo un po' goduta non siamo saliti su nessuna giostra anche se quella con l'acqua lì ci ispirava un pochettino però poi alla fine non ci siamo saliti ma è stato veramente bello un po' difficoltoso arrivare non tanto con la metro schiera piena però ci saremmo fatta ma quelle due fermate con l'autobus che abbiamo aspettato quasi 45 minuti prima che un bus ci aveva un buco per noi perché tutti andavano alla festa insomma però dai il resto è stato bello fuori ci sta ancora abbastanza bene 18 gradi ho le finestre ancora sollevate domani farà ancora più caldo il picco però lo dà martedì pensate io martedì sono libero tra l'altro quindi è così adesso il mio amico che non è stato in bagno eccolo qua io mi preparo anche per andare a letto concludo questo vlog raga perché c'è tante immagini le ho girate e così poi domani faccio pausa domani domenica me la godo totalmente lunedì apro il vlog che poi il vlog del martedì sera lo apro lunedì mattina che poi lo vedrete appunto martedì sera compreso il mio giorno libero martedì che non ho nessun progetto particolare se non rilassarmi perché poi avrò quattro chiusure abbastanza toste quindi vi mando un bacio vi invito a lasciare un like un commento a seguirmi su miei social che sono qua sotto e la degustabox arriverà settimana prossima nelle mie ferie no ma si va bene la prossima fra due ovviamente e nulla e poi aspettatevi le recettine col fornetto nuovo un bacio a tutti ci vediamo martedì ciao